Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi, perché la risposta è niente, proprio niente. Né tantomeno chiedetevi cosa potreste fare voi per il vostro paese, perché la risposta di nuovo è niente, proprio niente. Se da tempo avete smesso di farvi domande del genere, o se addirittura non ve le siete mai fatte, benvenuti nel Movimento per la Disperazione, che è una sola cosa vi chiederà di fare, qualcosa per voi stessi. Ma il che vada vi accuseranno di essere egoisti, come è capitato a quelli come voi che la politica ha allontanato e che spera di riconquistare facendo leva sui sensi di colpa, no? Perché non avreste fatto i compiti di educazione civica, ma per favore. Il problema è che la politica promette, ma non c'è più nulla da mantenere, che la politica illude, ma le illusioni sono terminate, che la politica mente, non perché sono tutti ladri, ma perché non può più dire la verità, e cioè che non c'è più un nostro tempo, non c'è mai stata una nostra epoca, non c'è nemmeno una nostra generazione da rappresentare in nome della quale si possa pretendere che ci venga consegnato il mondo, non c'è una nuova era da inaugurare, non ci sono nuovi traguardi da raggiungere, né nuove frontiere da barcare. Lasciate ogni speranza voi che entrate in politica, ogni speranza in un futuro migliore, o in un futuro qualsiasi. Ecco perché oggi siamo qui, sono qui, a fondare un'organizzazione politica, perché non ho, non abbiamo, nessuna speranza. Ma se credete che ogni progetto sia una scommessa sul futuro, beh io dico, dipende dal progetto, ecco il mio. Non promettere niente, non voler cambiare, non volere, non cercare conforto, non illudersi, non attaccarsi al mezzo gaudio, non guardare oltre il dolore, non credere all'eternità dell'uomo, non fare tragedie, non fare figli. Il movimento per la disperazione parte da qui, senza avere la minima idea di dove potrà arrivare né con chi, ma con una sola certezza, con noi il futuro sarà peggiore.